Ciao ballerini, ciao ballerini! Oggi vediamo insieme una piccola sequenza di passi che ci permetterà di scaldare bene i piedi, di lavorare la mezza punta e il collo del piede. È un esercizio che posso utilizzare come presbarra, quindi attaccandomi alla sbarra all'inizio della lezione oppure anche al centro. Posso fare questo esercizio partendo dalla sesta posizione oppure posso farlo anche in prima posizione. Quindi in sesta posizione verrebbe demi-plie, alzo i talloni, vado in mezza punta, le ginocchia rimangono piegate, stendo il relevé e scendo. Al contrario, relevé, mezza punta, attacco i talloni, rimango piegate e stendo. In prima posizione demi-plie, mezza punta, stendo relevé e scendo con le gambe tese. Contrario, relevé, mezza punta, spingendo bene con il collo del piede, attacco il tallone in movimento, plie e stendo. Ok? Quindi questo esercizio può essere ripetuto più volte sia partendo dal plie che partendo dal relevé, sia in sesta che in prima posizione. Ok? Allora, vi abbraccio forte e ci vediamo prossimamente.